Amici dell'hard enduro buongiorno oggi sono a Sibiu in Romania al Red Bull Romaniacs 2019 la gara di hard enduro rally più dura e tosta del mondo sicuramente un'avventura da vivere in prima linea quindi sarò in gara e racconterò questa avventura giorno per giorno in sella un'usquarna te 300 2020 una moto totalmente standard un progetto supportato da usquarna italia motorex 6 e mezzeller un'edizione sicuramente molto importante 400 piloti che arrivano da tutte le parti del mondo e 50 nazioni rappresentate io ovviamente ci metterò tanto cuore e tantissima manetta dove poter seguire questa avventura ovviamente su tutti i canali enduro blogger facebook instagram e youtube ed anche sul sito di endurista magazine e sui canali social e se lo sai lo sai ma se non lo sai te lo dice il blogger